Ciao a tutti e ben ritrovati con Ablemos de Calcio. Oggi vi parlo di Mason Greenwood, calciatore inglese classe 2001. È un'atleta che sicuramente molti di voi conosceranno trattandosi di uno dei calciatori cresciuti nell'Academy del Manchester United che quest'anno ha fatto benissimo al Getafe. Si è chiaro che Greenwood più che una novità è una conferma perché in premio aveva fatto incetta di complimenti a cominciare da quelli di Sosk ayer. Nonostante ciò Manchester ha deciso di dare il ragazzo in prestito e probabilmente è stata anche una decisione giusta un'ottima decisione tanto per il club che ora si trova tra le mani un gioiello valutato, una cinquantina di milioni quanto per il calciatore stesso che al Getafe ha trovato l'ambiente ideale per sbocciare definitivamente. È chiaro che alcune cose si devono ancora migliorare ma senza dubbio la strada intrapresa è quella giusta. Peccato che Southgate non lo abbia convocato per gli europei. Tra un attimo spiegherò come gioca Greenwood. Chiaramente si tratta della mia personale spiegazione che non vuole avere nessuna pretesa. Insomma, non insegno nulla a nessuno. Prima di proseguire vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale. Greenwood è un calciatore dalla grande personalità. Qualcuno probabilmente l'avrà capito fin dal suo esordio in Champions League contro il PSG che era il marzo del 2019 e il ragazzo aveva 17 anni. Entrava l'ottanta da settesimo, è vero, ma con i Red Devils che avevano bisogno di segnare un gol per superare gli ottavi di finale, cosa che per la cronaca poi avvenne al 94esimo grazie a un gol di Rashford che segnava su calcio di rigore. Dicevo, un allenatore che non si fida di un ragazzino e non lo getta nella mischia. Non in una partita così importante. Ecco, quanto detto mi è servito per dare un'idea delle soft skills del calciatore che erano ben evidenti a chi lo allenava. Per quanto riguarda invece le hard skills di Manson Greenwood la prima cosa da dire è che è un ambidestro. Il sinistro è senza dubbio il suo piede più forte, ma calcia con il destro quasi con la stessa disinvoltura. Per farvi capire meglio, per battere i calci di rigore generalmente utilizza il destro. Lo abbiamo visto quest'anno con il Getafe, ma fu nel 2020 in occasione di una partita di FA Cup contro il Trammere che il Munno scoprì che Greenwood calciasse i rigori con il suo piede debole. Parliamo un attimo della sua posizione. Allo United ha giocato sempre sulla destra. In alcune occasioni il tecnico Pepe Bordalas lo ha fatto giocare anche a sinistra e persino come punta. Detto questo ribadisco che in prevalenza Greenwood è un'ala destra e sicuramente è in quella posizione che crea maggiori pericoli. Il club spagnolo principalmente ha giocato con il 4-2-3-1 oppure con il 4-1-4-1. Lo United con Greenwood è tutt'ora gioco con il 4-2-3-1. Questo vuol dire che Greenwood è abituato a giocare come trequartista di destra e naturalmente come attaccante di destra in una squadra con il tridente. A proposito di Getafe, Greenwood ha impegnato appena due partite per conquistare una maglia da titolare. È bravo a saltare l'uomo, ha un tiro secco da apprezzare la sua abilità non solo nella velocità con la quale calcia il pallone, ma anche di riuscire a farlo in poco spazio con i difensori addosso. Quando arriva ai 20 metri calcia, anzi tenta di più il tiro da fuori che da dentro l'area. Per concludere sulla rapidità con la quale calcia, e solo per questo aspetto, si potrebbe fare un paragone con Germain Di Fue. È bravo nel cercare le sovrapposizioni e si rende protagonista di scambi veloci con i compagni. Ad oggi possiamo considerare Greenwood un ottimo calciatore, ma probabilmente mancano ancora uno o due step per poterlo considerare un calciatore di primo livello. Durante lo scorso campionato il ragazzo è maturato tantissimo e la prossima stagione potrebbe essere quella decisiva per il suo esplorio definitivo. Attendo i vostri commenti sul calciatore, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.